tutti pronti per la gran fondo caribaldina la bici è pronta andiamo a vedere che c'è nel pacco gara il numero numero con il chip ecco il pacco gara cappello a che serve non lo so io ho visto che c'è una cosa che piace spazzolini piatto di pasta eccola la cosa che piace eccola 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 il mitico vd 40 sponsor ufficiali di tutti i video di maurizio morelli eccolo qua che c'è 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 via c'è un po di roba adesso marco di strine c'è c'è tutto pronto è tutto pronto adesso tiriamo fuori la bici tutto pronto per la gran fondo caribaldina più di mille partenti pollice in su